Abbiamo iniziato oggi la campagna vaccinale qui al Policlinico, abbiamo dato ad esempio io, il direttore generale e tutti i direttori del Dipartimento Assistenziale. La struttura dell'UFA, i farmacisti e gli infermieri dell'UFA, oggi la dottoressa Ciottola e la dottoressa Gallo, stanno predisponendo il vaccino per tutti e tutti i colleghi e lo faremo in continuazione nei prossimi giorni. Ovviamente vaccinarsi è un senso di dovere per i nostri cari, per i ragazzi, per un futuro migliore della nostra città e del nostro Paese, ma anche un grande segno di rispetto per tutti quei medici e quegli infermieri e quelle persone che hanno perso la vita e che combattono ogni giorno con il Covid-19. È un segno di speranza e bisogna avere sempre grande rispetto per la ricerca e per coloro che hanno realizzato questa importante arma che ci permette di combattere contro questa pandemia. Vacciniamoci perché è molto molto importante.